YouTube è invaso da video che ti dicono fai 150€ in un mese, 250€ in un mese, basta lasciare acceso la scheda video, fai list, fai soldi, eccetera, eccetera, eccetera. Ok, ci può anche stare come discorso, ma la prima domanda che nessuno si sta facendo è ma quanto è sicuro praticare mining con la propria scheda video, con le proprie PC da gaming? Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su SD Hardware, sono Davide e oggi argomento scottante, come detto nell'introduzione, infatti parliamo di mining. Un punto di vista un po' diverso e diciamo quasi uno sconsiglio a praticare il mining sul proprio PC da gaming. Tutti direte, beh ma perché questo video? Non ha senso, sono guadagni creati? Beh, datemi tempo e vi spiego il perché. Ma prima, ovviamente, iscrivetevi al canale nel caso in cui ancora non siete iscritti e mi raccomando iscrivetevi anche al nostro canale delle offerte, infatti lo trovate giù in descrizione. Oltre a questo ragazzi volevo dire che sta arrivando un video molto interessante, vedete la protagonista qui? sono riuscito finalmente a riparire una scheda video usata. Abbiamo già fatto una guida su quali schede video usate acquistare, un PC da gaming di circa 5-600€ con una scheda video usata da 150-200€ all'interno. Finalmente sono riuscito a riparirla. Vedete qui affianco a me infatti una GTX 980 che sarà la protagonista di uno dei prossimi video. Quindi iscrivetevi ragazzi se volete vedere come si comporta questa GTX 980 pagata 230€. Sì, è follia. Vediamo un po' come si comporta nel 2021. Chiudiamo questa parentesi sui prossimi video, sulle iscrizioni e un po', diciamo, di pubblicità a me stesso e iniziamo a parlare del discorso appunto del video. Ovviamente ci sta anche un problema a livello di componenti, ma questo lo analizziamo dopo. Non sto parlando della cosa più ovvia del mondo, ovvero ho installato il programma, l'antivirus mi ha detto è un programma pericoloso non installarlo. È una delle cose più inutili, perché ovviamente l'antivirus, non so se lo sapete, ma esistono dei virus che permettono al vostro computer, a vostra insaputa, di far minare altre persone, utilizzano le vostre unità di calcolo per guadagnarci, e in quel caso è un virus, non lo state facendo volontariamente, ed è il motivo per cui, visto che l'algoritmo è lo stesso, l'antivirus vi blocca anche quelli per il mining, ma non perché sia malvagio di per sé. Vi voglio dire una cosa che non ho visto in nessun video, non nessuno l'ha mai citato, o forse ignorano questo dato, non lo so. Tutti i programmi che vengono utilizzati per il mining sono scritte da persone terze cui date accesso, quindi avete disabilitato l'antivirus, insomma non ci stanno più controlli sul PC che fermano questi programmi, che girano in background 24 ore su 24 e che non sai di preciso cosa fanno. Infatti tutti questi programmi sono precompilati e il sorgente non è online, quindi non sappiamo cosa fanno. È un po' come quando scarichi il programma per craccare Windows e dici sì, ok, ho craccato Windows, ma è il programma che rimane in esecuzione, e intanto, ma che sta a fare? Intanto che mina, non c'è il dubbio che fa altro, e il dubbio ovviamente ci sta, non abbiamo codici sorgenti che ci dicono cosa fanno. Ma oltretutto la maggior parte degli eseguibili che servono per minare sono scritti da persone, da sviluppatori, che hanno zero informazioni sulla rete, o comunque si nascondono bene, cioè non c'è programmatori o cose che si buttano lì, alcuni addirittura non hanno nemmeno una pagina su GitHub. Diciamo che a dare tutto questo accesso a un programma di terze parti, il quale magari è scritto in binario, non è possibile decriptarlo, non è possibile sapere quello che ci sta scritto, beh, stai un po' aprendo una backdoor dentro il tuo computer, stai dando praticamente accesso possibilmente a non si sa chi e a quale sviluppatore, di quale programma, utilizzare il tuo PC e non è detto che non ti possano fregare dei dati nello stesso tempo. C'è anche da dire che ovviamente quei programmatori in quel momento fate magari una percentuale dal tuo eseguibile, perché comunque tu minando sicuramente loro si prendono una parte e quindi dici che senso ha crearmi se porto guadagno a loro? Beh, mettete conto che un giorno quello sviluppatore si rompe le palle di tutta la situazione, prende e dice bah, oggi chiudo tutto e niente, mi prendo l'ultimo bottino, diciamo così, e niente, mi frega i dati. Voi che fate? Niente, non lo sapete mai, lo sapete quando magari vi vendono i vostri dati a chissà chi. Purtroppo è così che funziona. dev fee senza commissioni, diciamo così, ah, lì allora è ancora peggio la situazione, perché appunto, come detto prima, nessuno fa niente per niente. Ci sono comunque programmi sicuri, ovviamente, diciamo che la maggior parte dei programmi sicuri sono quelli in cui ci sta qualcuno a cui accusare nel caso le cose vadano storte. Sappiamo che Nisash non ha un'ottima reputazione, soprattutto per il passato, visto il furto di Bitcoin che c'è stato da parte del CEO, eccetera, 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 ma diciamo che è un discorso molto vecchio e che non ha nemmeno senso fare, però di per sé Nisash almeno se il loro eseguibile c'è stato un programmatore che ha deciso di impiantare un virus all'interno del suo eseguibile, almeno c'è qualcuno a cui dare la colpa. Quindi diciamo che non sto dicendo che Nisash appunto sia il migliore. C'è poi magari anche altri programmi che vengono utilizzati sempre per minare che sono altrettanto potenzialmente pericolosi. Mi viene da pensare a ETH, l'ArgamentPill, che per esempio è un programma che ti permette di aumentare il tuo hash rate totalmente gratuito. E lì ti viene da pensare ma che cosa fa? Cioè, oltre ad aumentare il mio hash rate, questi da cosa guadagnano? L'hanno fatto per patriottismo o per farmi guadagnare a me e loro non fare niente. Ragazzi, non viviamo in un mondo in cui qualcuno fa qualcosa per un altro senza un tornaconto. Quindi fatevi da voi due domande e datevi due risposte. Quindi, ricapitolando, il problema principale dal mio punto di vista di questi eseguibili della maggior parte degli eseguibili per minare è la sicurezza dei dati. Ovviamente voi stai aprendo una porta ai potenziali sviluppatori di questi eseguibili di terze parti che non si sa che cosa ci sta scritto all'interno? E magari non lo sapete ma state dando accesso a tutto l'intero disc? Ragazzi, ha davvero senso utilizzare per magari guadagnare quei 150 euro del proprio pc da gaming? Secondo me no. Mi sono dato la risposta e sono stato il primo a pormi queste domande. Trovare delle risposte e poi decidere in caso di minare e la mia risposta è no, non ha senso rischiare i dati. Per non parlare poi di altre cose. Diciamo, questo dal mio punto di vista è il 70% del motivo per cui non ho iniziato a minare sul mio pc. Si fanno 200 euro al mese secondo me puliti, calcolatore di NiceHash per capirci e poi senza le varie ottimizzazioni sulla scheda. Pudevo guadagnare davvero tanto ma secondo me non vale la pena se il prezzo da pagare è un possibile furto di dati. È una questione che non viene mai discussa sul mining ma che è molto plausibile visto i programmi che vengono utilizzati. Se proprio dovrei consigliarvi un programma non sono sicuri al 100% perché anche questi che vi sto consigliando adesso che sono quelli di NiceHash quindi l'AllMiner per quanto riguarda le schede MD e Excavator per quanto riguarda le schede video NVIDIA o anche QuickMiner sempre di NiceHash sono comunque scritti da terzi e comunque NiceHash ha dei programmatori che lavorano per loro ma comunque non c'è un codice sorgente quindi comunque si ha dei dubbi. Ragazzi è tutto un discorso di sicurezza che poi magari a qualcuno non frega niente ma diciamo è il discorso principale per cui dal mio punto di vista si mina se hai una rig o se hai un secondo pc che dentro l'hard disk al massimo c'è sta l'eseguibile del mining e non lo so Chrome installato basta. Ma c'è anche un 30% di motivazione legato all'usura dei componenti. Diciamo che di per sé il componente viene utilizzato in undervolt e magari metti a roccare soltanto le memorie eccetera 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 però di per sé comunque sta acceso H24 e se lo utilizzerei soltanto per giocare sta acceso 3 ore al giorno. Capite come magari dovranno andare a cambiare pasta termica e pad dopo un anno e mezzo invece che dopo 4. Però questa è una scelta che di per sé non è tanto un problema. Il vero problema è ragazzi se voi avete un RX 580 ma che hai 18 anni alle spalle e vi la mettete a minare per guadagnare 1 euro al giorno ragazzi il profitto non ci sta. Non ha senso rischiare e utilizzare la vostra scheda nella RX 580 nella 1660 quello che sia non ha davvero senso utilizzare quella scheda per il mining. Soprattutto in questo periodo in cui le schede sono irreperibili e trovate una 980 a 230 euro ed è un prezzo onesto visto che ci sono 970 a 200 euro di questo periodo ed ho fatto un video tre settimane fa in cui stavano a 150 e adesso stanno a 200 non so dove arriveranno mese dopo mese quindi non ha senso rischiare di rovinare la propria scheda per cosa? Per 2 euro al giorno? Tanto vale fare l'elemosina al metro cioè non stiamo parlando di questo. Che dire ragazzi spero di avervi dato due punti di vista ovviamente il primo è molto più importante almeno secondo me del secondo sono difficili da reperire e andare lì a sforzare la vostra che magari ha già 2-3 anni per pochi spiccioli non ha davvero senso. Avete una 3070 una 3080 magari pagata sovrapprezzata allora lì inizia ad avere un senso ma comunque io per il motivo di prima non minerei mai sul mio pc da gaming e mai con la mia scheda video ma non perché si rovina la scheda video per il 70% il motivo è la sicurezza dei dati cioè il furto di dati è una cosa davvero importante e che tutti i video che ho visto sul mining nessuno ne fa nemmeno un minimo accenno non dico tanto c'è questa possibilità stiamo usando eseguibili di terze parti che dire ragazzi spero che il video vi sia stato utile mi andava di dire un po' la mia su questa cosa visto che non ho sentito nessuno che faceva cenno a questi potenziali rischi perché stiamo parlando di quello non è detto che vi fottono per forza i dati eh attenzione è possibile che ci sia però il rischio insomma bisogna tenerne conto se bisogna interprendere quella strada un po' come bisogna tenerne conto e se stai utilizzando la tua RX 580 che so già a tre anni che c'è giochi c'è il rischio che comunque ti rimane cotta quindi niente ragazzi spero che il video vi sia stato utile quindi ovviamente iscrivetevi al canale nel caso in cui ancora non siete iscritti magari commentate fatemi sapere la vostra su questo argomento che non è proprio trattato da tutti spero di non aver detto cazzate diciamo così e niente ci vediamo al prossimo video un saluto da Davide dal piccolo baby iodo che oggi è molto vicino a noi e ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao